Parte 3. Il Pacificatore. Capitolo 21. Coriolanus era appoggiato con la tempia contro il vetro del finestrino, nel tentativo di riceverne un po' di frescura. Il vagone soffocante si era svuotato poco prima, quando cinque o sei altre reclute erano scese al distretto 9. Solo. Finalmente. Era in treno da 24 ore, e non aveva avuto un istante di intimità. Lunghe, inspiegabili attese, avevano spesso interrotto la marcia. Tra il viaggio intermittente e le chiacchiere degli altri arruolati, non aveva chiuso occhio. Invece, aveva finto di dormire, nel tentativo di dissuadere chiunque dal rivolgergli la parola. Magari poteva schiacciare un pisolino ad esso, per poi svegliarsi da quell'incubo che sembrava, da quanto era ostinato, essere proprio la sua vita reale. Si strofinò la guancia piena di croste, con il polsino rigido e ruvido della nuova camicia da pacificatore, riuscendo solo a peggiorare il suo sconforto. Che posto orribile, pensò senza energia, mentre il treno attraversava sbuffando il distretto 9. Gli edifici di cemento, la vernice scrostata e la povertà arrostivano sotto il sole implacabile del pomeriggio. E c'era il rischio che il distretto 12 fosse ancora più orribile, con l'aggiunta della coltre di polvere di carbone. In realtà non aveva mai visto molto del 12, solo la diretta sgranata della piazza nel giorno della mietitura, e non gli era sembrato un posto adatto alla presenza umana. Quando aveva chiesto di essere assegnato lì, l'ufficiale aveva inarcato le sopracciglia per la sorpresa. Non me lo sento chiedere spesso, era stato il suo commento, ma poi aveva timbrato la richiesta senza approfondire. A quanto pareva, non tutti avevano seguito gli Hunger Games, perché l'uomo sembrò non sapere chi fosse Coriolanus, e non fece il minimo accenno a Lucy Gray. Tanto meglio. Al momento l'anonimato era una condizione fortemente desiderabile. Il disonore della sua situazione derivava soprattutto dal cognome che portava. Si sentiva bruciare se solo ripensava al suo ultimo incontro con il decano Highbottom. «Lo senti questo, Coriolanus? È il rumore degli snow che cadono, come la neve!» Quanto odiava il decano Highbottom. La sua faccia gonfia, sospesa sopra le prove. La punta della sua penna che stuzzicava gli oggetti sulla cattedra. «Questo tovagliolo, che il DNA ci conferma essere tuo, usato per contrabbandare illegalmente cibo dalla mensa all'arena. Lo abbiamo raccolto come prova della scena del crimine dopo le esplosioni. «Abbiamo eseguito i controlli di routine e d'accoti qui!» «La stavate facendo morire di fame!» aveva detto Coriolanus, la voce incrinata. «Procedura abbastanza normale negli Hunger Games, ma non è stato tanto il cibo quanto piuttosto il furto dall'accademia. Severamente proibito!» aveva ribattuto il decano. «Io ti avrei denunciato già allora. Ti avrei dato un'altra nota di demerito e squalificato dai giochi. Ma la dottoressa Gould ha pensato che saresti stato più utile come martire per la causa di una Capitol City ferita. E così, mentre ti riprendevi all'ospedale, abbiamo trasmesso la registrazione in cui Cantilinno ha squarciagula. «Allora perché tirare fuori la questione adesso?» chiese Coriolanus. «Solo per stabilire uno schema di comportamento. Subito dopo, batte la penna sulla rosa d'argento. Ora, questo porta Cipria. Quante volte ho visto tua madre estrarlo dalla borsetta per specchiarsi. La tua graziosa, insulsa mammina, che chissà come si era convinta che tuo padre le avrebbe donato libertà e amore. Dalla padella alla braccia, come si suol dire. Non lo era. Fu tutto quello che Coriolanus riuscì a replicare. Insulsa, intendeva. Non era insulsa. L'unica sua scusante era la giovanetta. E in realtà sembrava destinata a rimanere una bambina per sempre. Proprio il contrario della tua ragazza, Lucy Gray. «Una sedicenne che si comporta come una trentacinquenne. E una trentacinquenne di ghiaccio, per di più», osservò Highbottom. «Vi ha dato lei il porta Cipria?» Gli si spezzò il cuore a quel pensiero. «Oh, non biasimarla. I pacificatori hanno dovuto lottare e metterla al tappeto per averlo. Naturalmente facciamo sempre una perquisizione accurata dei vincitori quando escono dall'arena». Il decano inclinò la testa e sorrise. Furbo il modo in cui ha avvelenato Uovi e Mortifer. Non un granché come correttezza, ma che fare. «Rimandarla al distretto dodici ci sembra una punizione sufficiente. Dice che il veleno per i ratti è stata una sua idea, che il porta Cipria era solo un pegno». «È vero», confermò Coriolanus. «Lo era. Un pegno del mio affetto. Non so niente di nessun veleno. Diciamo che ti credo, anche se non è così. Cosa devo pensare di questo, allora?» Il decano sollevò il fazzoletto con la punta della penna. Un assistente di laboratorio l'ha trovato ieri mattina nella teca dei serpenti. All'inizio erano tutti perplessi. Si sono frugati nelle tasche per vedere se i loro fazzoletti erano andati persi. Perché chi altro era stato vicino agli ibridi? Un giovanotto lo ha reclamato, per la verità, dicendo che le sue allergie erano molto peggiorate e che aveva smarrito il fazzoletto solo qualche giorno prima. Ma proprio mentre stava presentando le sue dimissioni, qualcuno ha notato le iniziali. Non le tue, quelle di tuo padre, finemente ricamate in un angolo. CXS. Ricamate con lo stesso filo bianco del bordo. Anzi, comprese nel disegno del bordo. Così discrete da doverle cercare con attenzione, ma indiscutibilmente presenti. Coriolanus non aveva mai esaminato il suo fazzoletto quotidiano. Se lo infilava in tasca e basta mentre usciva. Forse avrebbe avuto una piccolissima possibilità di respingere l'accusa se il secondo nome non fosse stato così particolare. XANTOS. L'unico nome che iniziava con una X, per quanto ne sapeva Coriolanus, e l'unica persona che lo portava era suo padre. CRASSUS XANTOS SNOW. Non c'era alcun bisogno di chiedere se il test del DNA, che senza dubbio il decano aveva fatto eseguire, avesse trovato la firma sua e di Lucy Gray. Allora, perché non lo avete reso pubblico? Ah, credimi, ero tentato. Ma quando espelle uno studente, l'Accademia ha la tradizione di offrirgli un'ancora di salvezza, spiegò Highbottom. Come alternativa alla pubblica infamia, hai la possibilità di arruolarti nei pacificatori entro la fine della giornata. Ma perché dovrei farlo? Cioè, perché dovrei dire che farò una cosa del genere? Quando ho appena vinto il premio Plint per l'università, balbettò. Chi lo sa? Perché sei quel tipo di patriota? Perché sei convinto che imparare a difendere il tuo paese sia un'istruzione migliore rispetto al sapere che ricaveresti da un sacco di libri? Il decano Highbottom cominciò a ridere. Perché gli Hunger Games ti hanno cambiato e vuoi andare dove puoi servire al meglio Panem? Sei un ragazzo in gamba, Coriolanus. Sono sicuro che ti farei venire in mente qualcosa. Ma... Ma io... Gli girava la testa per la posca e l'adrenalina. Perché? Perché mi odia tanto? Proruppe. Credevo che lei fosse amico di mio padre. La domanda fece tornare serio il decano. Lo credevo anch'io, in passato. Ma poi ho scoperto di piacergli solo perché poteva servirsi di me. Anche adesso. Ma adesso è morto. È morto da anni, gridò Coriolanus. Merita di esserlo. Eppure sembra vivissimo in te. Highbottom lo congedò con un gesto. Sarà meglio che ti sbrighi. L'ufficio chiude tra venti minuti. Se corri ce la farai giusto in tempo. E così aveva corso, senza sapere cos'altro fare. Dopo essersi arruolato, era andato dritto alla cittadella, nella speranza di poter invocare la misericordia della dottoressa Gould. Gli fu negato l'ingresso, anche quando avanzò il pretesto dei punti infetti. I pacificatori telefonarono al laboratorio e la risposta fu di mandarlo in ospedale. Una delle guardie ebbe compassione di lui e accettò di provare a consegnare il suo ultimo tema alla dottoressa Gould, anche se non poteva promettergli niente. Coriolanus fece per scarabocchiare una nota a margine in cui implorava la dottoressa di intercedere a suo favore. Ma poi intuì quanto fosse inutile. Scrisse solo Grazie. Di cosa non lo sapeva, ma si rifiutava di permettere che quella donna si nutrisse della sua disperazione. Sulla via di casa, le congratulazioni dei vicini gli affondarono nel cuore come pugnali. Ma la vera sofferenza iniziò quando entrò nell'appartamento. Tra gli squilli di trombette di latta, egli è viva. Tigris e la signora nonna avevano tirato fuori gli addobbi che usavano per festeggiare il nuovo anno e per l'occasione avevano comprato una torta. Lui tentò debolmente di sorridere, poi scoppiò in lacrime e a quel punto disse loro ogni cosa. Quando ebbe finito, entrambe si fecero silenziose e immobili come due statue di marmo. «Quando parti?» chiese Tigris. «Domani mattina». «E quando tornerai?» chiese a sua volta la signora nonna. Non poteva sopportare di dirle «tra vent'anni». Lei non sarebbe vissuta tanto a lungo. Se l'avesse rivista, sarebbe stato nella tomba di famiglia. Non lo so. Gli fece cenno di aver capito, poi si rannicchiò sulla sedia. «Coriolanus, ricorda che ovunque andrai sarai sempre uno snow. Nessuno potrà mai toglierti questo». Lui si chiese se non fosse proprio quello il problema. L'impossibilità di essere uno snow in un mondo post-bellico. Che cosa quel nome l'aveva indotto a fare? Ma disse soltanto «Cercherò di esserne degno, un giorno». Tigris si alzò. «Vieni, Corio. Ti aiuto a preparare i bagagli». La seguì nella sua stanza. La cugina non aveva pianto. Sapeva che avrebbe tentato di trattenere le lacrime finché non fosse partito. Non c'è molto da preparare. Hanno detto di indossare dei vestiti vecchi da buttare via. Forniscono loro le uniformi, i prodotti per l'igiene, tutto. Posso portare solo gli oggetti personali che stanno dentro questa. Coriolanus tirò fuori dallo zaino una scatola di 20 cm per 30, profonda meno di 8. Rimasero a fissarla per un lungo istante. «Cosa ti porterai?» chiese Tigris. «Devono essere cose importanti». Fotografie della madre che lo teneva in braccio da piccolo, del padre in uniforme, di Tigris e della signora nonna, di qualche suo amico. una vecchia bussola di ottone appartenuta al padre, la cialda rotonda di cipria al profumo di rose che un tempo stava nell'astuccio d'argento, avvolta con cura nel suo fular di seta arancione. Tre fazzoletti, carta da lettere con il sigillo della famiglia Snow, il tesserino dell'accademia, la matrice di un biglietto per il circo, risalente alla sua infanzia e con l'immagine dell'arena stampigliata sopra. Una scheggia di marmo proveniente dalle macerie di un bombardamento. Si sentiva simile in tutto e per tutto a Maplint, con la sua manciata di ricordi del distretto 2 in cucina. Coriolanus e Tigris non dormirono. Salirono sul tetto e rimasero a fissare Capitol City finché il sole non cominciò a spuntare nel cielo. «Eri destinato a fallire», disse Tigris. «Gli Hunger Games sono una punizione contro natura, violenta. Come ci si poteva aspettare che una brava persona come te stesse a quel gioco?» «Una cosa del genere non devi dirla a nessuno a parte di me, non è sicuro», l'avvertì Coriolanus. «Lo so», disse lei, «e anche questo è sbagliato». Coriolanus fece la doccia e indossò uno sfilacciato paio di pantaloni della divisa scolastica, una maglietta logora e un paio di infradito rotte, poi beve una tazza di tè in cucina. Salutò la signora nonna con un bacio e diede un ultimo sguardo alla sua casa prima di uscire. Nell'atrio, Tigris gli offrì un vecchio cappello e un paio di occhiali da sole che erano appartenuti al proprio padre per il viaggio. Coriolanus riconosceva un travestimento quando lo vedeva e Grato li indossò entrambi infilando i riccioli sotto il cappello. Rimasero in silenzio mentre percorrevano le strade in gran parte deserte fino al centro di reclutamento. A quel punto Coriolanus si girò verso di lei, la voce roca per l'emozione. Ti ho lasciata sola ad affrontare tutto. La casa, le tasse, la signora nonna. Mi dispiace moltissimo. Capirò se non vorrai perdonarmi. Non c'è niente da perdonare, replicò lei. Scrivi appena puoi. Si abbracciarono così stretti che lui sentì saltare parecchi punti sul braccio. Poi marciò all'interno del centro dove si aggiravano almeno 300 cittadini di Capitol City in attesa di iniziare la loro nuova vita. Provò dapprima un guizzo di speranza, poi una vampata di terrore al pensiero che poteva anche non superare la visita medica. Che destino lo attendeva in quel caso? Un richiamo pubblico? La prigione? Il decano Highbottom non l'aveva detto ma lui immaginava il peggio. Passò la visita con facilità e gli tolsero anche i punti senza fare commenti. Il taglio a spazzola che lo separò dai suoi caratteristici riccioli gli lasciò la sensazione di essere nudo ma così cambiato che le poche occhiate incuriosite che aveva continuato a ricevere cessarono del tutto. Si mise la nuovissima tuta mimetica e ricevette una sacca da viaggio piena di altri capi d'abbigliamento un kit per l'igiene personale una bottiglia d'acqua e dei panini con la carne per il viaggio in treno. Poi firmò una pila di moduli uno dei quali disponeva che mandassero metà della sua modesta paga a Tigris e alla signora nonna il che gli diede un briciolo di conforto. Rasato vestito e vaccinato Coriolanus raggiunse un autobus pieno di reclute dirette alla stazione ferroviaria. C'era una mescolanza di ragazzi e ragazze appena diplomati provenienti da Capital City sepolto in un angolo della stazione guardò Capital News temendo un servizio sui suoi guai ma vide solo la classica scaletta della domenica meteo traffico deviato per lavori di ricostruzione la ricetta di un'insalata estiva era come se gli Hunger Games non fossero mai esistiti. Mi stanno cancellando pensò e per cancellare me devono cancellare i giochi. Chi sapeva della sua vergogna? il corpo insegnante i suoi amici nessuno lo aveva contattato forse la voce non si era ancora sparsa ma sarebbe accaduto la gente avrebbe fatto ipotesi sarebbero girate voci e una versione distorte su cosa della verità avrebbe avuto la meglio quanto avrebbe gongolato Livia Cardio al diploma Clemenzi avrebbe ottenuto il premio Plint nel mese di pausa estiva si sarebbero fatti delle domande su di lui alcuni avrebbero persino sentito la sua mancanza Festus forse l'esistrata poi in settembre i suoi compagni avrebbero iniziato l'università e pian piano si sarebbero dimenticati di lui cancellare i giochi avrebbe voluto dire cancellare anche Lucy Gray dove era l'avevano davvero rimandata a casa in quel momento stava forse tornando al distretto 12 chiusa nel puzzolente carro bestiame che l'aveva portata a Capitol City era quanto il decano High Bottom aveva detto che sarebbe successo ma la decisione definitiva sarebbe spettata alla dottoressa Goal e lei avrebbe potuto non essere molto indulgente riguardo al loro inganno per suo ordine Lucy Gray avrebbe potuto essere incarcerata uccisa o trasformata in una senza voce o peggio ancora essere condannata a una vita da cavia nel laboratorio degli orrori della dottoressa quando gli tornò in mente che si trovava in treno Coriolanus chiuse gli occhi per paura che potessero spuntargli le lacrime era meglio che non lo vedessero piangere come un bambino quindi lottò con le sue emozioni per riprenderne il controllo si tranquillizzò pensando che rimandare Lucy Gray nel distretto 12 poteva essere in ogni caso la miglior strategia per Capitol City magari con il passare del tempo la dottoressa Goal avrebbe potuto esibirla di nuovo soprattutto se lui fosse stato ben lontano farla tornare a cantare per dare il via ai giochi i reati commessi da lei se mai ne aveva commessi erano minori rispetto ai suoi e il pubblico l'aveva apprezzata giusto? forse il suo fascino l'avrebbe salvata ancora una volta di tanto in tanto il treno si fermava e rigurgitava altri coscritti nei distretti di destinazione o per un trasferimento su mezzi di trasporto diretti a nord o a sud o dovunque fossero stati assegnati a volte Coriolanus guardava dai finestrini le città morte che oltrepassavano ormai abbandonate agli elementi e si chiedeva come dovesse essere il mondo quando erano al loro massimo splendore quando quello era il nord america non panem doveva essere bellissimo un paese pieno di capital city che spreco verso mezzanotte la porta scorrevole dello scompartimento si aprì e due ragazze si precipitarono dentro insieme a due litri di posca che avevano portato sul treno chissà come data la situazione Coriolanus passò la notte ad aiutarle a farla fuori salvo poi svegliarsi molte ore dopo e scoprire che il treno stava arrivando nel distretto 12 allo spuntare di una fosa mattina di martedì Coriolanus scese barcollando sulla banchina con la testa che pulsava e la bocca come carta vetrata seguendo gli ordini lui e altre tre reclute si misero in riga e aspettarono per un'ora che un pacificatore in apparenza non molto più vecchio di loro li guidasse fuori dalla stazione e lungo le strade polverose la calura e l'umidità trasformavano l'aria in qualcosa a metà tra il liquido e il vapore tanto che Coriolanus non riusciva a stabilire se stesse inspirando o espirando goccioline acquose gli coprivano il corpo di un'insolita patina che resisteva a qualsiasi tentativo di asciugarla il sudore non evaporava si accumulava soltanto il naso gli gocciolava abbondantemente il muco già un po' annerito dalla polvere di carbone i calzini facevano chic-ciac negli stivali rigidi dopo una scarpinata di un'ora in mezzo alla cenere e all'asfalto spaccato delle strade fiancheggiate da orribili edifici arrivarono alla base militare che sarebbe stata la sua nuova casa le recinzioni di sicurezza che racchiudevano la base così come i pacificatori armati al cancello lo fecero sentire meno vulnerabile le reclute seguirono la loro guida attraverso una serie di costruzioni grigie e anonime giunti agli alloggi le due ragazze si separarono dal gruppo mentre lui e l'unica altra recluta di sesso maschile un ragazzo alto e magro come una sardina di nome Junius furono indirizzati verso una camerata sulle cui pareti erano allineati quattro letti a castello e otto armadietti due brande erano ordinatamente rifatte e due delle rimanenti sistemate vicino a una finestra sporca che dava su un cassonetto avevano sopra pile di lenzuola e coperte i ragazzi eseguirono goffamente l'ordine di preparare i letti e Coriolanus prese la branda superiore per venire incontro a Junius che aveva paura delle altezze poi fu concesso loro il resto della mattinata per farsi la doccia svuotare i bagagli e rivedere il manuale di addestramento dei pacificatori prima di presentarsi in mensa per il pranzo alle undici Coriolanus entrò nella doccia con la testa all'indietro trangugiando l'acqua tiepida che scendeva dal soffione si asciugò tre volte prima di rassegnarsi al fatto che la sua pelle sarebbe rimasta umida in eterno e indossò una tuta mimetica pulita dopo aver disfatto la sacca da viaggio e aver messo la sua preziosa scatola sullo scaffale più alto dell'armadietto si arrampicò sul letto e studiò o finse di studiare il manuale dei pacificatori per evitare di dover parlare con Junius un tipo nervoso con un gran bisogno di rassicurazioni che Coriolanus non era in condizione di offrirgli quello che avrebbe voluto dire era la tua vita è finita giovane Junius accettalo ma era probabile che quelle parole avrebbero portato solo ad altre confidenze alle quali non aveva certo l'energia o la competenza per rispondere l'improvviso assenza di responsabilità nella sua vita verso gli studi la famiglia il suo stesso futuro gli aveva prosciugato le forze anche il più piccolo compito gli sembrava incredibilmente faticoso qualche minuto prima delle undici i suoi compagni di camerata un chiacchierone dalla faccia rotonda di nome Smiley e il suo minuscolo amico Bug passarono a prenderli i quattro si diressero alla sala mensa che ospitava lunghi tavoli affiancati da sedie di plastica incrinate martedì vuol dire pasticcio di carne e verdure annunciò Smiley per quanto fosse nei pacificatori da appena una settimana sembrava non solo conoscere ma crogiolarsi nella routine Coriolanus raccolse un vassoio scanalato che conteneva qualcosa di simile a cibo per cani tempestato di patate la fame e l'entusiasmo dei commilitoni lo incoraggiarono quindi ne provò un boccone e trovò quella roba abbastanza mangiabile per quanto molto salata ricevette anche due metà di pera in scatola e una grossa tazza di latte pasto non elegante forse ma sostanzioso si rese conto che come pacificatore era improbabile che morisse di fame anzi gli veniva garantita un'alimentazione più consistente di quella che poteva permettersi a casa Smiley annunciò la loro immediata amicizia e alla fine del pranzo Coriolanus e Junius erano già stati soprannominati rispettivamente nobile e pertica uno per il modo di comportarsi a tavola l'altro per via della corporatura Coriolanus accolse con gioia il nomignolo perché l'ultima cosa che voleva sentire era il nome Snow nessuno dei suoi compagni però fece commenti in proposito o accennò in qualsiasi modo agli Hunger Games in seguito scoprì che gli arruolati avevano accesso a un solo televisore nella sala comune e che la ricezione era così scarsa che l'apparecchio non veniva quasi mai acceso se Pertica aveva visto Coriolanus a Capitol City non aveva fatto il collegamento tra il mentore degli Hunger Games e il soldatino che aveva accanto forse nessuno lo riconosceva perché nessuno si aspettava che fosse lì o forse la sua celebrità era limitata all'accademia e a un pugno di persone senza lavoro di Capitol City che avevano avuto il tempo di seguire lo spettacolo Coriolanus si rilassò quanto bastava per confessare di aver avuto un padre militare ucciso in guerra di avere ancora una nonna e una cugina a casa e di aver finito la scuola una settimana prima con sua grande sorpresa scoprì che Smiley e Bug come molti altri pacificatori non erano originari di Capitol City ma dei distretti oh certo disse Smiley fare il pacificatore è un ottimo lavoro se riesci a ottenerlo meglio che sgobbare in fabbrica un mucchio di roba da mangiare e abbastanza soldi da mandare a casa c'è chi storce il naso ma io dico che la guerra è acqua passata e che un lavoro è pur sempre un lavoro quindi non ti dispiace sorvegliare la tua stessa gente non poter fare a meno di chiedergli Coriolanus ah ma questa non è la mia gente loro sono nel lotto non ti lasciano mica dove sei nato rispose Smiley con un'alzata di spalle e poi adesso siete voi la mia famiglia nobile Coriolanus venne presentato ad altri membri della sua nuova famiglia quel pomeriggio stesso quando fu assegnato al reparto cucine sotto la supervisione di Kuki un vecchio soldato che aveva perduto l'orecchio sinistro in guerra si spogliò fino alla cintola e si piazzò per quattro ore davanti a un lavello pieno d'acqua fumante a sfregare pentole e lavare vassoi poi gli vennero concessi quindici minuti per mangiare un'altra porzione di pasticcio prima di trascorrere le ore successive a pulire i pavimenti della sala mensa e dei corridoi ebbe circa una mezz'ora per rientrare in camerata prima che alle nove si spegnessero le luci e lui crollasse sul letto in mutande alle cinque del mattino seguente era vestito e in campo per iniziare il vero addestramento la prima fase era concepita per portare le nuove truppe a un livello accettabile di forma fisica fece flessioni ed esercizi e corse finché non ebbe i vestiti fradici e i talloni coperti di vesciche gli insegnamenti della professoressa Siegel gli furono molto utili lei aveva sempre insistito sulla necessità di allenarsi seriamente e lui marciava in formazione sin da quando aveva dodici anni pertica al contrario con la sua goffagine e il suo torace incavato ogni volta che toccava a lui si faceva tartassare e maltrattare dal sergente istruttore quella notte mentre scivolava nel sonno Coriolanus sentì che il ragazzo cercava di soffocare i singhiozzi nel cuscino la sua nuova vita era suddivisa tra destramento rancio pulizie e sonno le attraversava meccanicamente ma con capacità sufficienti a evitare rimproveri se era fortunato disponeva di una preziosa mezz'ora per sé prima del silenzio serale non che concludesse qualcosa riusciva solo a farsi la doccia e a salire sulla sua baranda il pensiero di Lucy Gray lo tormentava ma procurarsi informazioni su di lei era difficile se fosse andato in giro per la base a fare domande qualcuno avrebbe potuto scoprire il suo ruolo nei giochi e lui voleva impedirlo a tutti i costi il giorno libero era la domenica e le loro mansioni terminavano sabato alle 5 ma in quanto reclute erano confinati in caserma fino al weekend successivo per allora Coriolanus progettava di andare in città e in modo furtivo chiedere alla gente del posto notizie di Lucy Gray Smiley aveva detto che i pacificatori erano soliti ritrovarsi in un vecchio deposito di carbone chiamato il forno dove si poteva comprare liquore fatto in casa e forse un po' di compagnia il distretto 12 aveva anche una piazza cittadina la stessa usata al giorno della mietitura con una manciata di negozietti e bancarelle di ambulanti ma lì c'era più attività durante il giorno con l'eccezione di Pertica che a causa delle sue mancanze si era visto assegnare la pulizia delle latrine sabato sera dopo aver mangiato i compagni di camerata di Coriolanus si diressero verso la sala comune per una partita a poker lui invece si attardò immensa con pasta e carne in scatola dato che di solito Smiley li distraeva con le sue chiacchiere quella era la prima volta che poteva passare in rassegna gli altri pacificatori avevano un'età che andava dalla tarda adolescenza fino ad arrivare a un anziano che sembrava coetaneo della signora nonna alcuni chiacchieravano tra loro ma quasi tutti sedevano silenziosi e abbattuti trangugiando la pasta stava forse guardando il suo stesso futuro Coriolanus decise di passare la serata libera in camerata dal momento che aveva lasciato alla famiglia fino all'ultimo soldo non avrebbe avuto denaro sufficiente per giocare nemmeno gli spiccioli almeno finché non lo avessero pagato il primo del mese cosa più importante aveva ricevuto una lettera di Tigris che voleva leggere in privato si immerse nella solitudine libero dalla vista dal rumore e dall'odore dei suoi commilitoni tutta quella promiscuità lo schiacciava abituato come era a concludere le sue giornate da solo si arrampicò sulla branda e aprì con cura la lettera carissimo Corio è lunedì notte e l'appartamento risuona della tua assenza la signora nonna sembra non capire proprio quello che succede visto che oggi mi ha chiesto per due volte quando saresti tornato a casa e se dovevamo aspettarti per cena hanno cominciato a spargersi voci sulla tua situazione sono andata a trovare Pluribus e lui ha detto di aver sentito un sacco di pettegolezzi che avevi seguito Lucy Gray nel 12 per amore che ti eri ubriacato durante i festeggiamenti e ti eri arruolato per scommessa che avevi infranto le regole e mandato tu stesso dei doni a Lucy Gray nell'arena che avevi avuto una lite di qualche genere con il decano High Bottom io dico alla gente che stai facendo il tuo dovere per il paese come tuo padre questa sera sono passati Festus Persephone e Lisistrata tutti preoccupatissimi per te e la signora Plinta ha chiamato per avere il tuo indirizzo credo che voglia scriverti adesso il nostro appartamento è ufficialmente in vendita grazie a un po' d'aiuto da parte dei Dulittolo Pluribus dice che se non troviamo casa subito lui ha un paio di camere libere sopra il locale e che magari potrei dare una mano con i costumi se lo riaprirà ha anche trovato dei compratori per molti dei nostri mobili è stato davvero gentile e dice di mandare i suoi saluti a te e Lucy Gray sei riuscito a vederla è l'unica cosa dolce in tutta questa follia mi dispiace che questa lettera sia così breve ma è piuttosto tardi e ho ancora tanto da fare volevo solo buttare giù qualche riga per ricordarti quanto ti amiamo e quanto ci manchi immagino quanto debba essere dura ma non perdere la speranza ci ha sostenuto nei periodi più bui in assoluto e lo farà anche adesso per favore scrivi e dici della tua vita nel 12 potrà anche non sembrarti perfetta ma chi lo sa dove può portare e ricorda gli snow si posano in cima tigris Coriolanus nascose il viso tra le mani capito il city che si prendeva gioco del nome degli snow la signora nonna che perdeva la ragione la loro casa ridotta a un paio di squali di stanze sopra un locale notturno con tigris che cuciva calzamaglie di paillette era quello il destino della maestosa stirpe degli snow e cosa dire di lui Coriolanus snow futuro presidente di Panem la sua vita tragica e inutile gli si dispiegava davanti si vedeva di lì a vent'anni corpulento e istupidito le maniere ormai smarrite la mente atrofizzata al punto in cui niente la occupava se non i più bassi istinti animali della fame e del sonno Lucy Gray abbandonata nel laboratorio dalla dottoressa Gould sarebbe stata morta da tempo e il suo cuore insieme a lei vent'anni sprecati e poi quando avesse scontato la sua pena beh si sarebbe arruolato un'altra volta perché persino allora l'umiliazione sarebbe stata troppo grande cosa lo avrebbe atteso a Capitol City se fosse tornato la signora nonna passata miglior vita Tigris ormai di mezza età ma in apparenza più vecchia che ancora cuciva come una schiava la sua gentilezza trasformata in insulsaggine la sua esistenza una barzelletta agli occhi di chi doveva con piacere per guadagnarsi da vivere no non sarebbe mai tornato sarebbe rimasto nel 12 come quel vecchio della sala mensa perché quella ora era la sua vita niente compagni e niente figli unico domicilio quello della caserma gli altri pacificatori la sua famiglia Smiley Bug Pertica i suoi fratelli e non avrebbe mai più rivisto nessuno che avesse conosciuto prima mai più un dolore terribile gli strinse il petto mentre veniva sommerso da un'ondata tossica di nostalgia e disperazione era sicuro che gli stesse venendo un attacco di cuore ma non provò nemmeno a chiedere aiuto anzi si raggomitolò sulla branda premendo la faccia contro la parete forse era meglio così perché non c'era via d'uscita nessun posto dove scappare nessuna speranza di salvezza nessun futuro che non fosse una morte in vita cosa doveva aspettare con impazienza il pasticcio di carne un bicchiere di gin a settimana una promozione da lavapiatti a raschiapiatti morire adesso in fretta non era meglio che tirare avanti così penosamente per anni da qualche parte gli sembrava da molto lontano sentì una porta sbattere un rumore di passi percorse il corridoio fermandosi per un attimo e poi proseguendo verso di lui strinse i denti desiderando che il suo cuore si arrestasse all'istante perché lui e il mondo avevano chiuso ed era tempo che si separassero ma i passi si fecero più forti e si fermarono proprio davanti alla porta qualcuno che cercava lui la ronda e lo fissava in quella situazione umiliante mentre si crogiolava nella sua stessa miseria aspettò la risata la derisione e il turno alle latrine che sarebbe seguito invece sentì una voce pacata dire è occupata questa branda una voce pacata e conosciuta curiolanus si voltò di scatto sul letto gli occhi spalancati per avere conferma di ciò che le sue orecchie sapevano già fermo sulla soglia stranamente a suo agio nella tuta mimetica appena spacchettata e ancora sgualcita c'era seianus splint spettato spettato spettato